Grazie a tutti. Grazie a tutti. E devo dire che mi appoggero molto alle due relazioni precedenti da Battimelli e Rossi. Più che di rinascita, che era messo soltanto per dare un sequitur all'intervallo fra le due guerre, io credo che veramente si parla di nascita. E ce l'ha appena detto Paolo nella sua relazione precedente. Insomma, ci sono degli antefatti, ma la vera nascita, e devo dire non solo della fisica teorica torinese, ma certamente in particolare della fisica teorica torinese, è proprio dopo la fine della guerra e ha le sue radici direttamente e molto precisamente in Enrico Persico. In questo senso, dissento da quello che diceva un attimo prima Sandro Bottino. Secondo me è proprio l'opera di Enrico Persico che ha prodotto certamente a Torino, ma come cercherò di far vedere non solo a Torino, lo sviluppo di quella che è diventata una delle più brillanti scuole di fisica al mondo. Ma partiamo dalla fisica torinese, che ha origini antiche e nobili, partono dal primo Settecento e non me ne potrò certamente soffermare, ma vorrei invitare chi ha voglia di approfondire la cosa ad andare a guardare su questo sito la Facoltà di Scienze Matematiche e Fisiche Naturali dell'Università di Torino 1848-1490 che è stata compilata ormai molti anni fa da Vittorio De Alfaro e che è una vera e propria dissertazione accademica, meriterebbe di essere pubblicata per conto suo. Ne ha fatto una cronistoria completa e mi dispiace davvero che non si trovi più nella pagina ufficiale del Dipartimento di Fisica dell'Università di Torino, da cui è scomparsa per motivi che io non conosco e che certamente non condivido. Però è ancora recuperabile per chi la vuole e la raccomando davvero fortemente. Ma vorrei dare un'ulteriore ragione per dispiacermi di questa scomparsa, perché se uno va nell'attuale pagina del Dipartimento e cerca cosa succede tra le due grandi guerre, prima trova un'informazione che tra l'altro è presa ancora verbatim dal testo di De Alfaro, che una volta andato Andrea Naccari fuori ruolo, la facoltà chiamò nell'ottobre 1916 da Genova Luigi Puccianti, questi però nella primavera seguente accettò di tornare a Pisa da cui proveniva. Fu quindi chiamato il romano Alfredo Pochettino, cattedra fino al 1946, che non partecipa al rinnovamento della fisica ma prosegue con ricerche su vari aspetti della fisica classica, elettricità, atmosfera, ascensione in pallone, stato solido, a cui frase fa seguito la seguente, che in poche righe sintetizza alcune pagine del testo originale di De Alfaro e liquida sinteticamente 17 anni di sviluppi che sono in realtà assolutamente fondamentali per il ruolo di incubazione, per la nascita, nascita quindi non rinascita, della fisica teorica torinese che hanno rappresentato, io credo, veramente il ruolo centrale svolto da Persico a Torino in condizioni sempre più difficili. La frase è questa condensata di svariate pagine del testo di De Alfaro e dice La grande stagione del rinnovamento si avvicina. Enrico Persico, proveniente dalla scuola romana, grande esperto di meccanica quantistica, tiene la nuova cattedra di fisica teorica dal 30 al 47 insegnando meccanica quantistica e fisica matematica e si è pure in anni difficili, questa è proprio la frase cruciale, prepara un gruppo di giovani con un lavoro i cui frutti verranno raccolti dopo la guerra. È veramente un po' troppo sintetica per rappresentare il ruolo e il lavoro che ha fatto Persico e come tale io me ne dispiace in maniera particolare. Una presentazione decisamente in tono minore che cercheremo di rimettere in una prospettiva un po' meno ingiusta in quanto segue. Se però ci limitassimo appunto al tema dell'incontro, scusate il refuso, la fisica teorica tra le due guerre, io direi che senza grande esagerazione ma con enorme ingiustizia proprio nei confronti di Persico si potrebbe semplicemente dire la fisica teorica torinese tra le due guerre non esisteva ancora, stava nascendo proprio grazie a Enrico Persico. E allora, rapidissimamente, gli antefatti, ma gli antefatti in realtà ce li ha appena raccontati in grandi dettagli e con ottime informazioni il professor Rossi, cominciamo con ricordare che la distinzione formale tra fisica, considerata come una disciplina essenzialmente sperimentale, e fisica teorica, nasce al mondo abbastanza tardi. Certamente all'inizio del Novecento, sull'onda delle scoperte epocali di Planck e di Einstein, era già nata. Vi ricordo che Planck ha fatto un unico lavoro di fisica sperimentale a fine degli anni 70, metà degli anni 70, 1870 ben inteso, con quello che era il suo mentore a Monaco, Fongioli, per il resto ha fatto solo lavori di fisica teorica, anche se ovviamente si può discutere su quanto questi hanno impattato sulla fisica sperimentale. Ma certamente era già molto conosciuta la fisica in quanto fisica teorica. Io non so, forse Paolo ce lo dirà in qualche modo, magari se vuole darci qualche informazione in più, io non so in quanti paesi venisse chiamata fisica teorica, ma certamente personalità come Maxwell, Bolson, Lawrence, Poincaré, e devo dire a partire da Galileo stesso e da Newton a seguire, erano già stati anche dei fisici teorici. Io sfido chiunque a dire che Galileo non fosse allo stesso tempo un fisico teorico, un fisico sperimentale. Nascendo la fisica nasceva in quanto disciplina certamente, a due, perlomeno a due facce. Ma in Italia, l'abbiamo visto in grande dettaglio, e nasce molto tardi, nasce nella prima sede di Roma per l'opera di Orso Maria Corbino. E l'abbiamo visto in dettaglio, con Persico II e Pontremoli III, ma Fermi I. e nasce, devo dire, quasi in dispetto della fisica italiana, perché, per esempio, non solo della fisica, della meccanica quantistica, ma anche della relatività. La relatività è stata fortemente influenzata da matematici italiani, Ricci Curbastro è stato quello che ha fornito a Fermi lo strumento matematico, e Tullio Levicivita è quello che gliel'ha spiegato e l'ha in qualche modo indirizzato ad usarlo. Ma i fisici italiani, ahimè, non credevano né nell'una né nell'altra. Io ricordo ancora, che tutte le volte lo ricordo, perché in questa sede è bene ricordare anche gli errori, l'Accademia delle Scienze di Torino non ha approvato, ha chiamato a socio di Einstein, dopo che aveva già anche preso il premio Nobel, che poi prende per l'effetto fotoelettrico e non per la relatività. Non voglio dire che l'effetto fotoelettrico non meritasse il premio Nobel, ma certamente non si può dire che non lo meritasse neppure la meccanica relativistica. Però, insomma, è veramente disperante l'idea che la fisica italiana, che peraltro aveva avuto, dopo Galileo, che la fa nascere, e che fa nascere la fisica nel mondo, aveva avuto dei grandi fisici, solo per ricordare i più eccezionali, da Avogadro, Volta, Galvani, insomma, fino ad arrivare, beh, fino ad arrivare, per fortuna, a quando i cambiamenti diventeranno una valanga che viene messa in moto da una palla di neve e che lentamente, lentamente, ce l'ha spiegato molto bene Paolo, diventerà una valanga. Ma una valanga che oggi, devo dire, ha portato la fisica teorica italiana ad essere certamente una delle più importanti al mondo. Abbiamo già sentito abbondantemente sui pochi fatti personali di Persico, che diventa un grande amico, e non solo amico, ma anche, possiamo dire, se non seguace, è certamente fortemente influenzato dall'altro Enrico più famoso, Enrico Fermi. E quindi passiamo, beh, abbiamo visto anche tutte queste cose, anche se voglio ricordare, l'aveva già ricordato anche Gianni Battimelli, che nella sua prima uscita da Roma, quindi chiamato a Firenze, Persico viene già in contatto con una quantità di fisici teorici e sperimentali, perché chiaramente abbiamo sperimentali del grandissimo calibro di Rossi, di Occhialini, di Bernardini, ma anche teorici del calibro non inferiore di Giulio Racà, e tanti altri che seguiranno. Firenze, proprio perché Garbasso stava costruendo una scuola di fisica di grande importanza, Firenze sarà uno dei poli dai quali usciranno importanti figure della fisica italiana a venire. e qua bisogna ricordare che effettivamente i tratti che sembrano caratteristici della vita scientifica di Persico, ma sono già stati abbondantemente illustrati, sono essenzialmente due. certamente un grande interesse e certamente una grande competenza, soprattutto per quanto riguarda la nascente meccanica ondulatoria quantistica che lui probabilmente preferiva nella sua formulazione ondulatoria, che tra l'altro ha influenzato non poco la fisica torinese che seguirà la sua partenza, e che proprio in quegli anni, il 26-27, sta arrivando la sua prima maturità. Intendo prima maturità perché credo che la meccanica quantistica oggi abbia cent'anni dopo una seconda maturità che sarà sicuramente di grandissima rilevanza nel futuro immediato. Il secondo tratto fondamentale che forse è perfino più rilevante da un qualche punto di vista diciamo di quello che è stato realizzato da Persico e la sua straordinaria capacità didattica. Che l'abbiamo visto, c'è stata un'enunciazione di un gran numero di trattati e manuali, sono stati chiamati, ma io li chiamerei dei trattati più che dei manuali, ma certamente anche dei manuali, che è stata fondamentale per generazioni e generazioni di studenti di fisica. Io stesso e molti dei fisici presenti in quest'aula abbiamo studiato su testi di Persico come soprattutto i fondamenti della meccanica ondulatoria quantistica, ma che diventeranno fundamentals of quantum mechanics e che evidenziano quello che secondo me è il tratto caratteristico del Magistero di Persico, la chiarezza e la semplicità dell'esposizione. Io devo dire che leggere quando ero ragazzino, si fa per dire, diciamo, prim'anni di università, leggere le lezioni di meccanica ondulatoria è stata veramente una scoperta nuova e proprio credo che sia non solo una scoperta per me, ma lo sia stata per molti fisici. Chiarezza è che curiosamente, almeno da un punto di vista tipografico, era mancata nella prima stesura delle lezioni tenute da Persico a Firenze, ma che diventerà leggendaria. Infatti ricordiamo, è stato anche detto già anche questo, ma nel 27 il grande matematico Whittaker inglese fa tradurre in inglese gli appunti del corso di lezioni di Persico sul calcolo differenziale assoluto di Ricci Curbastro. Quindi nel 27, come dire, mentre sta andando a Firenze o è appena dato, non lo so, Whittaker fa tradurre in inglese le lezioni di matematica sul calcolo differenziale assoluto di Persico. È la prima traduzione inglese di uno dei suoi dei suoi testi. Ricci, che ricordo, Ricci Curbastro, che l'ho appena ricordato un attimo fa, era anche proprio stato quello che aveva permesso a Einstein di formulare, di fornirgli lo strumento con il quale formulare l'equazione della relatività generale. E allora a questo punto la scuola romana da cui tutta l'Italia in tempi debiti sarà convertita alla nuova fisica vista e vissuta come una nuova fede da propalare aveva veramente chiare e definite impostazioni in questo senso. La meccanica quantistica era la nuova fede. Orso Maria Corbino era il padre eterno perché poteva tutto, Fermi in quanto infallibile era il papa, il suo primo collaboratore Franco Rasetti il cardinal vicario, Edoardo Amaldi ed Emilio Segre gli abati. Persico mandato in missione fra gli infedeli era il missionario cui era affidata la loro conversione ma diventa presto il prefetto di propaganda fede del nuovo verbo e ce lo dimostra nella poesiola che manda da Firenze a Roma padre Enrico il missionario se ne andò tra gli infedeli in un'isola selvaggia a spiegare l'Evangelo. L'isola selvaggia era la villa nella quale a Firenze erano ospitati i fisici del gruppo in cui lui si è trovato a lavorare. E in effetti uno dei primi compiti a Firenze fu di far pubblicare il volume delle sue dispense di meccanica quantistica che erano state raccolte da Bruno Rossi e da Giulio Racca che erano però l'ho ricordato un attimo fa quasi illegibili dal punto di vista tipografico tanto che gli amici di Roma li battezzarono il Vangelo Copto ed erano appunto gli appunti che rivisti in altre due successive edizioni sono diventate le già ricordate lezioni meccanica ondulatoria tradotte poi in inglese. Per varie ragioni che sono già anche state illustrate e molto dispiacere dei suoi allievi Persico decide di lasciare Firenze e nel 30 viene chiamato dalla Facoltà di Scienze di Torino. E questo avviene devo dire che deve essere stata una battaglia veramente dura per iniziativa del grande matematico Francesco Tricomi che vince l'opposizione l'abbiamo già verificata ne abbiamo visto addirittura la tarda riedizione di Carlo Somigliana Betti e Somigliana erano i nomi che dettavano la legge nella fisica matematica del tempo e l'indifferenza di viceversa di Pochettino di cui pare che Fermi lamentasse che aveva un nome troppo grande per lui. Samigliana era un ottimo fisico-matematico ma molto rigidamente tradizionalista fortemente contrario ad aperture verso la meccanica quantistica e quindi di riflesso alla chiamata di chi poteva influenzare gli studenti in questa direzione. Per fortuna Tricomi ha successo e questo cambia radicalmente in meglio le sorti future della fisica teorica torinese e comincia un processo che la porterà ad essere una delle più avanzate e prestigiose in Italia. Persico malgrado quello che lui scrive si trova in realtà in un ambiente molto pronto ad essere stimolato e non solo nella fisica. Ricordiamoci che Lodovico Gemonà oltre ad una laurea in filosofia si laurea anche nel 32 in matematica e diventerà un prestigioso rappresentante della cultura filosofico-scientifica soprattutto filosofica negli anni a venire di cui particolarmente ci parlerà domattina Livia Giacardi. ma un po' più tardi con Gemonà siamo nei primi anni 30 un po' più tardi verso la fine degli anni 30 o inizio degli anni 40 Persico interagirà anche con Primo Levi che nel 41 si laureerà in chimica pura con Giacomo Ponzio ed è una storia che più tardi nel 1975 troverà spazio nel sistema periodico di Levi che vi ricordo negli Stati Uniti è giudicato il più bel libro di divulgazione scientifica mai scritto e vale davvero la pena riportarne qualche breve pensiero dal capitolo che scrive sul potassio Levi racconta di quando giunto al quarto anno di chimica pura si chiamava chimica pura fisica pura e così via i corsi di laurea in quell'epoca aveva maturato qualche riserva sulla chimica in cui notoriamente non vi erano teoremi e scrive testualmente io spero che non ci sia nessuno dei miei amici chimici in aula ma se c'è non sono io che lo scrivo scrive testualmente bisognava andare oltre non accontentarsi del quia risalire alle origini alla matematica e dalla fisica le origini della chimica erano ignobili o almeno equivoche gli altri degli alchimisti la loro abominevole confusione di idee di linguaggio il loro confessato interesse nel loro i loro imbrogli levantini da charlatani o da maghi alle origini della fisica stava invece la strenua chiarezza dell'occidente archimede ed euclide sarei diventato un fisico magari senza laurea poiché Hitler e Mussolini me lo proibivano è veramente veramente un giudizio molto molto pesante e lei vi ricorda che al quarto anno di chimica pura vi era un corso di esercitazione di fisica esperimenti molto semplici condotti da un scrive lui giovane assistente magro alto un po' curvo gentile e straordinariamente timido che si comportava in un modo a cui non eravamo abituati che aveva quasi l'aria di scusarsi per la semplicità e futilità degli esperimenti che conduceva e che io credo almeno tutti i miei colleghi torinesi che hanno fatto fisica ricordano ancora come il corso di fisichetta 1 che era veramente semplice e in qualche modo non direi futile ma insomma certamente semplice levi prima tente inutilmente di diventare allievo interno presso qualche professore del corso di chimica ma tutti rifiutarono dice lui a bocca torta o con burbanza o facendo ricorso dice sempre lui a pretesti fumosi e inconsistenti ma dobbiamo ricordare siamo all'immediato in domani delle vituperate leggi razziste del fascismo e poi racconta ancora che una sera nebbiosa che immagini dell'autunno torinese per strada incrocia l'assistente e fatto si coraggio gli chiede se sarebbe stato possibile essere accolto per un lavoro sperimentale nel suo istituto dice Levi l'assistente sempre con la maiuscola mi guardò sorpreso in luogo del lungo discorso che avrei potuto aspettare mi rispose con due parole del Vangelo vienmi retro continuo ancora Levi l'interno dell'istituto di fisica sperimentale era pieno di polvere e di fantasmi secolari c'erano file di armadi a vetri ci sono ancora oggi ma non sono più pieni di foglietti ingialliti e mangiati dai topi ma grazie alla nostra amica Alberto Marzari che è qua con noi sono invece pieni zeppi di vecchi strumenti di fisica rimessi a nuovo e scintillanti molto belli chiunque non è ancora visti vado a vederli perché ne vale veramente la pena allora dice Levi c'erano file di armadi a vetri zeppi di foglietti ingialliti e mangiati dai topi lungo la parete di un corridoio trovai una straordinaria tromba lunga più di 10 metri ora non c'è più e io non l'ho mai vista quindi non c'era più neanche quando io ho fatto ho fatto fisica di cui nessuno sapeva più l'origine lo scopo e l'uso forse per annunciare il giorno del giudizio in cui tutto ciò che si esconde apparirà allora a questo punto ognuno si chiederà chi era l'assistente e per quelli che non lo sapessero adesso glielo dico ma seguono nel libro di di sistema periodico capitolo potassio altre sette pagine nelle quali si legge fra le righe la stima che diventerà amicizia l'intesa personale che portò Levi alla sua laurea io incidentalmente posseggo sia la sua che quella di Gemonà ovviamente in fotocopia e forse si travede anche il motivo che influenzerà nel tempo l'amico Renzo il figlio di Primo a scegliere fisica per i suoi studi allora il mistero di Levi che Levi non dipana su chi sia questa lieve figura dell'assistente e di nuovo qua ci soccorre il testo di Del Faro che in una nota spiega l'assistente di cui parla Levi in quel capitolo è Niccolò Dallaporta che mi ha detto di non aver mai incontrato un ragazzo dall'intelligenza così evidentemente straordinaria come lo studente Primo Levi i due divennero ovviamente molto amici che suggerì un soggetto e diede la possibilità di svolgere l'istituto di fisica le attività sperimentali richieste per poter conseguire la laurea in chimica la tesi teorica fu svolta col professor Ponzio su un effetto di cui non ricordo il nome Levi passò l'esame di laurea a pieni voti e l'ode il 12 giugno 1941 presentando come tesina il lavoro fatto all'istituto di fisica sperimentale questa agnizio probabilmente non del tutto inaspettata ci riporta ovviamente a Persico e all'ambiente in cui venne a trovarsi a Torino Persico era il direttore ma anche unico membro dell'istituto di fisica teorica che era ospitato dall'istituto di fisica sperimentale diretto da Pochettino e quando giunse a Torino in anni difficili preparò un gruppo di giovani con un lavoro in cui i frutti verranno raccolti dopo la guerra lo studio che Persico ebbe per quelli che conoscono l'istituto di fisica era quello che più tardi sarà di Mario Verde ma aveva pochi contatti con gli altri abitanti dell'istituto a parte appunto Nicolo della Porta ma la sua presenza e il suo insegnamento gettarono un seme che chiaramente fu molto importante negli studenti che preparando la nascita del periodo successivo tra coloro che durante il periodo torinese ne risentirono l'influenza troviamo nomi di fisici che diventeranno teorici ma che diventeranno sperimentali anche quindi oltre a Dalla Porta Giancarlo Vic già citato Carola Maria Garelli che oggi è ancora in vita Guido Bonfiglioli sperimentale Luigi Radicati di Brozzolo a cui chiederei di mandare i nostri auguri a non non lo sapevo poche settimane fa perché un mese fa era ancora vivo peccato va bene d'altra parte Francesca De Michelis che diventerà la capessa al Politecnico dopo la pensione di Perucca Marcello Cini Augusto Gamba Tim Zeuli e ovviamente più volte ricordato Gleb Vatagin che nel 34 sul suggerimento e raccomandazione di Fermi si trasferirà in Brasile dove fonderà la facoltà di scienze di quella che è ancora la miglior università del Sud America l'università di San Paolo e da cui rientrerà sempre a Torino nel 1949 oltre a Dalla Porta quindi che originariamente è di Trieste e che verrà chiamato a Padova dove darà un forte contributo all'eccellenza di questa scuola la diaspora dei fisici che si trovarono sotto l'influsso di Persico a Torino è davvero straordinaria Vic già stato ricordato andrà a Palermo ma poi andrà essenzialmente negli Stati Uniti radicati a Pisa Cini a Roma Gamba insieme a Giacomo Morpurgo a Genova ma molti altri ricordiamo per esempio Bernardino Bosco e tanti altri che tra l'altro era presente nella foto in cui Persico è sollevato dagli studenti dai suoi colleghi studenti una scuola straordinaria ma di cui nel profondo Persico doveva già essersi convinto della bontà se in un'altra poesia o la gli amici romani riconosceva il successo ottenuto dalla nuova fede nelle nuove sedi quando diceva credo un po' con fe profonda cui si inchina la ragion che la luce è corpo ed onda onda è corpo l'elettrono e gli anni dopo Torino beh la guerra sono anni di gravissimo disagio per Persico non mi stupisce che non ci siano dati di quel periodo perché Persico era essenzialmente trasferito a Torrepellice in compagnia di Tricomi e probabilmente di là non sono mai stati riportati i documenti o molti dei documenti ma nel 47 quando Rasetti si trasferisce alla John Hopkins di Valtimora si trasferisce in Quebec diventa direttore rimane fino al 50 quando l'abbiamo visto rientra a Roma dove rimane fino alla morte nel 69 ma mantiene ottimi rapporti come io per esempio una copia di una lettera la minuta di una lettera la minuta di quelle scritte ovviamente con le carte veline e molte copie in cui lo informa dettagliatamente degli sviluppi presso l'Istituto di Fisica di Torino prima di chiudere mi sembra opportuno ricordare il giudizio di persone che hanno avuto la fortuna di conoscere Persico molto bene di persona Amaldi e Rasetti cosa devo fare qua? riavvia ora? attendiamo un'ora va bene Amaldi e Rasetti nel ricordo pubblicato dall'Accademia Nazionale dell'Incei scrivono Persico fu sempre di un'onestà completa esente da qualsiasi ombra incapace di fare anche la minima concessione o di accettare anche piccoli compromessi che lo facessero allontanare dalla più rigida moralità di vita o intellettuale e poi ancora la sua riservatezza la ritrosia a parlare di sé la cautela con cui esprimeva giudizi potevano facilmente essere presi per timidezza in realtà forse era anche un poco timido ma soprattutto non voleva esprimere opinioni affrettate o manifestare anche momentaneamente e occasionalmente giudizi superficiali devo dire che tutto quello che io ho sentito letto di Persico mi conferma in queste opinioni le conclusioni le conclusioni sono che oltre che all'estero e nelle sedi che ho menzionato poco prima e soprattutto a Torino ovviamente che i semi gettati da Persico fruttificheranno in maniera straordinaria questo devo dire grazie anche a una politica di forte potenziamento della fisica che sarà perseguita dall'Università di Torino e pilotata molto bene da Romolo De Aglio che prima chiamerà richiamerà Gleb Vatagin dal Brasile poi chiamerà Enrico Persico a sostituire Enrico Persico una figura esemplare per competenza e cultura come poche io ne ho conosciute che è stata Mario Verde e questa triade dimostrerà capace si dimostrerà capace di trasformare in maniera drastica e positiva non solo la fisica sperimentale di Torino chiamando Carlo Franzinetti e Carlo Castagnoli ma anche di far nascere la scuola di fisica teorica e lasciatemi ricordare personalità del calibro di Sergio Fubini di Tullio Regge con una straordinaria proliferazione attorno loro di ottimi fisici teorici di contorno ma parlare di questi sarebbe un'altra storia non solo sarebbe troppo lungo farne l'elenco ma si rischierebbero proprio quei giudizi affrettati e superficiali che abbiamo visto che Persico aborriva grazie 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 grazie